Il CERT di Pescara sta letteralmente scoppiando con tre medici per 600 assistiti. Questo il grido di allarme lanciato dal capogruppo di FLIA al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che ha ricevuto le segnalazioni di una cinquantina di mamme di tossicodipendenti. Queste persone si sono rivolte al CERT ma si sono sentite rispondere che non c'era più spazio perché la struttura è ormai oberrata di lavoro. Ogni professionista ha in cura di fatto circa 200 ragazzi, un dato di fatto intollerabile perché in questo modo non si permette ai medici di lavorare in maniera serena. Una situazione esplosiva perché poi i genitori ovviamente sono allarmati perché non ritrovano ovviamente risposte da parte dell'ASRA per cui si sono rivolte al sottoscritto che scriverà adesso al manager dell'ASRA e vorrà essere ricevuto per spiegargli queste questioni. Ovviamente i genitori anche per una questione di pudore, dei privacy non si sono voluti far vedere, hanno delegato a me per poter interagire con i giornalisti e soprattutto con l'istituzione per risolvere il problema. Il problema è serio perché c'è solo un CERT nella provincia di Pescara che serve praticamente l'intero bacino e loro non riescono più a soddisfare queste esigenze. Per cui la situazione è drammatica, è una situazione esplosiva che ovviamente cercherò insieme al manager, che sono una persona che prende anche a cuore queste questioni, di risolverle nel più breve tempo possibile. Il consigliere dunque chiederà un incontro con il manager della ASL da Mario e se le risposte che gli utenti chiedono non arriveranno verranno messe in atto azioni eclatanti con le mamme degli assistiti.